Siamo alle pagine sportive per questo 26 luglio, iniziamo dal Corriere, dal Perugia, tutto fatto per Vido. L'attaccante Veneto arriverà in ritiro a Sarnano entro sabato, è in prestito, lo scorso anno era al Cittadella ma la sua proprietà è del suo cartellino e dell'Atalanta. Continua anche il pressing su Pektovic, l'attaccante slavo del Bologna, definita la cessione di Carmine, riscatto al primo punto del Verona. Under 21, Vido, nativo di Bassano del Grappa, nel 97, veste la maglia azzurra, dal 2017, abbonamenti che si avvicinano a 2.000, siamo a 1944, mentre sostituito il Benevento nell'amichevole di sabato sarà con il Bastia, alle 17, mentre domenica 5 agosto Alcuri, debutto in Coppa Italia contro il Novara, si gioca alle 20.30. Siamo a Terni, caos ripescaggi, anche la FIGI ci sta con le fere, perché la federazione impugna la sentenza favorevole al Novara che aveva cambiato i criteri di graduatore del ripescaggi, perché? Perché i club sanzionati nell'ultimo triennio per inadempienze amministrative, tra queste il Novara, dovrebbero essere esclusi da queste graduatori, invece l'ultima sentenza a cui si era appellata proprio la società piemontese aveva negato tale interpretazione, insomma un ginepraio. Di fatto attualmente il Novara sta sopra la Ternana, ma insieme alla FIGI ci la Ternana potrebbe vincere l'appello e in quel caso scalare la classifica ed essere ripescata. Lo si saprà ad agosto, praticamente De Canio a pochi giorni dall'inizio del campionato scoprirà quale sarà il campionato. Gubbio Beneretti, accordo raggiunto con il centrocampista Sisano che vestiva la maglia della Viterbesi, invece per Minelli salta tutto. Il classe 90 è stato scelto dopo l'addio di Palermo che guarda caso si è accasato proprio a Viterbo, ora mancano due esterni alti, un centrale e la ciliegina. Fatta per il centrocampista, tempi lunghi invece di recupero per l'attaccante Scuola Viola e dunque per lui non ci sarà probabilmente un contratto col Gubbio. Ieri l'intervista a Espeche, il centrale difensivo che arriva da Lucca, argentino di Cartellino, ma insomma già da diversi anni in Italia, su consiglio di Ferretti, ex compagno di squadra proprio a Lucca. Sarebbe bellissimo, dice, ritrovarlo pure qui. Avevo tanta voglia di cambiare aria. Questa è una piazza su misura per Medice e Specie. Questo per il Gubbio. Andiamo in Serie D dove si prepara il Cannara, che emozione, la serie del sogno D inizia sabato. Via Raduno, Capitano Raccichini per giocare qui ho rifiutato. Offerte allettanti dal Villabiaggio, 5 acquisti, ovviamente scomparsi il Villabiaggio, c'è la diaspora dei suoi giocatori, c'è pure Cardarelli. Eccoci Urnelli dall'Angelana, Pulci e Al Rieti. E poi il Lama 2.0 già pronto alla sfida, il DS Volpi. Vogliamo la salvezza. Alessio Foconi raccontato sul Corriere dai suoi istruttori, il presidente del circolo Tiberi, è un'emozione grandissima. Ora guardiamo le Olimpiadi. Foconi ha cominciato a 8 anni e non ha mai lasciato la scuola ternana. Applausi a non finire, la lode anche dal prefetto De Biagi per questo ternano davvero doc. Terni è anche capitale degli arcieri. La cascata delle marmore farà da scenario unico per le gare in programma domani e domenica. Saranno in 200 per la quarta edizione del Grand Prix di tiro di campagna. La federazione accetta la candidatura delle città per il Mondiale 3D. E c'è davvero tutto a Nocera Umbra per far crescere i giovani azzurri di schermo. A bel successo per il campus della federazione arriverà una prova del Master. Mentre Marta Nizzo, la bella storia della campionessa di vita premiata dopo due titoli ridati. E quella europea nelle competizioni per trapiantati nel suo sport che è il tennis. Lasciamo il Corriere, andiamo alla Nazione con lo sport a fare fatto. Vido è del Perugia. Nel weekend anche Felicioli, Bruno Pektovic tentato dall'estero ma la trattativa resta in piedi. E poi Ternana caccia di un trequartista, ripescaggio verdetto ad agosto, di Achite già in ritiro. Triennale per il difensore francese. Mentre tante medaglie alla scuola Sambao in Spagna per gli allievi del maestro Simone Sebastiani nel quarto campionato di Tuichu, una disciplina di arti marziali. Il basket, Foligno, Abracadabra, l'unione fa la forza, l'unione delle due società. Mentre per il volley, le trattative, Cappelletti, Passa al Tuscagna, Tris di Acquisti per il San Giustino. Chiudiamo con il messaggero. Grifo, mancano almeno cinque pedine, dice il quotidiano romano. Alessandro Nesta ha in mente una fisionomia di squadra ben precisa. Servono centrali di difesa adatti, un paio di centrocampisti e una punta. Nel modulo 4-3-1-2 per ora ci sono Felicioli e Mazzocchi sui esterni. Bianco e Moscati in mediana, buon aiuto fantasista. Melchiorri davanti. Intanto con Di Carmine arrivano due milioni e mezzo. al primo punto conquistato dal Verona. Insomma, Santo Padre tifferà sicuramente Verona fin dalla prima giornata. La spoletina Elena Petrini si riprende il triathlon, un nuovo trofeo. E da Città di Castello, invece per l'Atletica, il discobolo faloci. Ci prova ancora, sfida agli europei. La danza sportiva da Foligno, Daniele e Maria, o meglio da Spello, Daniele e Maria, campioni sui pattini. Mentre dalla pagina del messaggero di Terni, con cui concludiamo, la metamorfosi di Bandecchi. Meno di un anno fa il patrono aveva annunciato di voler giocare solo con italiani, poi il cambiamento radicale. Dopo Lopez e Rivas, ieri è arrivato anche Di Akite, potrebbe raggiungerli molto presto. Anche Vives, insomma, è bastata la retrocessione per cambiare filosofia. Ieri è ufficializzato l'accordo col difensore, protagonista due anni fa dell'impresa con Liverani. E infine, tiro con l'arco, weekend alla cascata delle marmore. Da sabato sfida per 200 arcieri italiani, confermata la candidatura per i mondiali. Ed è tutto anche per lo sport, ma non è finita qui, tra poco il meteo. Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero, a Gubbio, in via dell'Arboreto. Giornata di sole pieno per questo 26 luglio, come vediamo anche dalla grafica curata da Riccardo Rossi, così come ovviamente le previsioni, giornata con cieli poco o per nulla nuvolosi. Avremo l'anticiclone africano in espansione su tutto il centro e sud Italia e quindi anche sui nostri territori. Nelle ore centrali della giornata, possibili cieli velati nelle pianure umbre, con elevata sensazione di afa. Temperature sia minime che massime in aumento, con le minime tra i 16 e i 21 gradi. E le massime costantemente sopra i 30 gradi su tutto il territorio, addirittura con punte di 35 gradi nel Folignate, nella Conca Ternana. È tutto, le previsioni tornano stasera con l'informazione, prima ovviamente degli appuntamenti informativi 19.30 e 20.20, a seguire il Tg Sport e quindi l'approfondimento del TRG+. State con noi anche con il sito trgmedia.it, grazie e a voi tutti, buona giornata. Grazie.